Prova. 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 Presenteremo tre strumenti quadro di pianificazione importanti per definire il governo del territorio e della costa, dello sviluppo della costa tricasina. Siamo partiti lunedì scorso con il piano delle coste, è venuto il dirigente Vito Ferramosca e l'assessore all'ambiente Serena Ruberto e abbiamo individuato soprattutto criticità e punti di interesse e lo scenario possibile da qui a dieci anni sul tema della balneazione, delle concessioni balnearie, della vivibilità generale del tratto di costa tricasino che sono ben otto chilometri. Ieri invece abbiamo avuto il piacere di aver collegato online il redattore del Pug Architetto Benevolo, Alessandro Benevolo, in un colloquio diretto con il sindaco Antonio De Donno che è anche assessore all'urbanistica, la delega all'urbanistica. Abbiamo parlato un po' di questo strumento, che è lo strumento principale della pianificazione e della sua visione lungo la costa, quindi i temi importantissimi dell'ambiente, della valorizzazione degli elementi ecosistemici, della mobilità, dell'accessibilità ai luoghi della balneazione e anche delle questioni della qualità urbana e dell'abitare, quindi l'opportunità dell'abitare. Oggi abbiamo l'ultimo degli incontri e parleremo invece di due piani di settore, due piani più specifici che danno delle soluzioni operative e che guardano a due tematiche importanti. Il primo è il piano comunale mobilità ciclistica ciclopedonale, PCMC, che è anche conosciuto come Biciplan, che è una parte importante del sistema della mobilità e che è un tema cruciale per la trasformazione dei territori e della qualità delle pratiche d'uso di questi territori ad oggi. A parlare di quello sarò io direttamente perché sono il redattore dello stesso Biciplan per conto del comune di Tricase e poi parleremo invece del PEBA, il piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Anche qui è un tema complessivo di grande importanza e attualità sulla democratizzazione dei luoghi della vita e quindi anche dei luoghi costieri con una forte vocazione turistica. A parlarne con noi ci sarà Alberto Scolozzi, pianificatore dell'architetto e redattore di questo piano. A conclusione, così come abbiamo fatto lo stesso schema degli altri due giorni, abbiamo con noi invece Andrea Ciardo, vice sindaco e assessore con delega al turismo e altre cose, poi si presenterà meglio, a cui verrà chiesto di offrire la visione dell'attuale amministrazione sul tema della costa, sempre la visione costiera e le opportunità chiaramente turistiche, non solo turistiche, legate all'accessibilità dei luoghi e alla mobilità degli stessi. Se ci sono delle domande devo fare un saluto ora, altrimenti io procedo raccontando l'ineguida del Biciplan. Prego Andrea. Sì, grazie Rino, buongiorno a tutti, grazie dell'invito naturalmente a partecipare qui insieme a voi al Talk. Un saluto naturalmente a chi ci sta seguendo e naturalmente dopo approfondiremo anche le varie visioni che vogliamo portare in essere come amministrazione rispetto anche a quanto ci diremo insieme a voi. Grazie. Grazie a te Andrea. Biciplan è uno strumento, come abbiamo detto, di settore, che per quanto riguarda una città medio, medio grande, comunque relativamente importante nella gerarchia della provincia di San Lentino, nella provincia di Lecce è un piano che dovrebbe andare a braccetto, dovrebbe essere una parte del piano urbano mobilità sostenibile, così come un po' il PEBA di cui parleremo tra un po'. È comunque un piano di settore del PUG, quindi devono essere tutti elementi tra loro correlati. Deve però dare una grande concretezza, oltre a individuare uno schema della ciclabilità e dell'accessibilità ciclabile prioritario a livello macro su tutto il complesso territorio tricasino, deve anche definire un programma di azioni concrete, delle cose operative, degli elementi di azioni operative che ci si prefigge di fare e che non sono soltanto di tipo infrastrutturale, ma sono anche di tipo di servizi, cioè di elementi anche innovativi che possono essere introdotti nelle nostre pratiche quotidiane proprio per sostenere quella che, in fine conti, è una transizione. La mobilità, il sistema di mobilità è un tema che è emerso con grande forza in tutti gli incontri e partecipazioni che abbiamo fatto questi giorni, la sosta, l'accessibilità agli spazi pubblici, il modo in cui ci si muove. Abbiamo tirato fuori almeno un paio di principi guida che ritroviamo in questo Biciplan. Una è che è giusto distinguere tra una mobilità sistemica e una mobilità non sistemica, diciamo così, una mobilità che riguarda tutti e una mobilità che riguarda particolari periodi dell'anno e particolari target di persone, quelle maggiormente turistiche, ma questa non deve essere l'unica chiave di lettura. Spesso corriamo l'errore di pensare che la mobilità dolce, la mobilità collettiva, il trasporto a chiamata o l'uso della Bici, la Bici elettrica, monopattina che stanno individuando adesso, siano rivolti quasi esclusivamente a chi ci viene a trovare, ai turisti. No, allora, l'idea è quella di proporre un nuovo modello di sviluppo, di guidare la transizione verso una trasformazione delle pratiche d'uso quotidiano di tutti, avendo degli scenari da qui a dieci anni, da qui a vent'anni, per trasformare appunto le abitudini e creare un sistema che funzioni in maniera alternativa a quello che abbiamo oggi, che è evidentemente eccessivamente autocentrico, nel senso di automobile. Quindi, il Biciplan del Comune di Tricase deve, come ogni piano che si rispetti, essere coerente e cogente con tutto quello che è stato detto a livello sovralocale. A livello sovralocale, il Comune di Tricase ha dentro il proprio comune una importante arteria, diciamo così, di attraversamento ciclabile, ciclo turistico quasi esclusivamente, quella sì, che è la cosiddetta ciclovia adriatica, una ciclovia di interesse nazionale ed europeo, che ha come capolinea finale l'Euca, chiaramente, Santa Maria di Leuca, e che parte dal, sostanzialmente, fa tutta l'asse adriatico italiano. E in tante parti dell'Italia, nelle Marche, nell'Abruzzo soprattutto, stanno proprio realizzando l'infrastruttura DOC per concretizzare questa strada. Quindi, dobbiamo immaginare come se l'autostrada, chiamiamola così, delle biciclette, sia la nostra litorania, la litorania del Comune di Tricase, che non è solo in questo, e anzi, questa visione che viene dall'alto è stata già recepita dai diversi strumenti di pianificazione, il PTCP della provincia di Lecce, innanzitutto, e a livello ancora più locale, il piano di coordinamento del Parco Trantoleuca, che individua proprio la litorania, con degli elementi di criticità, non c'è ombra di dubbio, non ci sfugge, come una strada a prevalente uso ciclabile e ciclopedonale. Allora, che la litorania, da Marina di Andrano per quanto ci riguarda, sino a Tigiano, sino a Corsano, quindi attraversando da nord a sud, e al contrario da sud a nord, l'intero territorio tricasino, sia un asse rilevante, sia come proposizione di un nuovo turismo lento e sostenibile, sia come potenzialità di attraversamento, almeno nel periodo estivo stesso, e che quella strada debba essere ripensata come una strada lenta, dove ci sia la capacità di far convivere i diversi modi di attraversamento, quindi nessuno sta immaginando, il BICP non lo dice chiaro e tondo, che bisogna costruire nuove infrastrutture parallele alla sezione stradale esistente, anche perché non c'è la capacità di ospitare piste ciclabili di almeno 3 metri accanto alla strada, tranne se non in alcuni piccoli punti già urbanizzati, quindi forse a Tricas e Porto si può pensare qualcosa del genere, ma per distinguere in alcuni punti, ma nella stragrande maggioranza della strada, quindi della costa tricasina, bisogna immaginare che quella strada, tra l'altro a nessuno sfugge a valore paesaggistico della stessa, sia una strada in cui devono convivere auto e biciclette e anche chi vuole andare a piedi fondamentalmente, in che modo? Mettendo delle regole d'uso molto semplici, anche stagionali, probabilmente che siano protettive verso la fascia debole di questi che attraversano, quindi basta istituire una zona 30 o istituire delle altre forme di tutela della mobilità dolce, sullo stesso tracciato stradale, questa è l'indicazione prioritaria che viene offerta a livello sovralocale. È chiaro che poi il Biciplan dice tante altre cose, agganciandosi a questo, e che vanno a riguardare invece il tessuto compatto e meno compatto della città di Tricase, e che cosa fa? Va a studiarsi, primo tra tutti, due elementi cardine, che non siamo soliti studiare e da cui invece dobbiamo partire proprio per uscire da una logica esclusivamente turistica, che pure ci interessa. Quali sono? Sono i nodi di interscambio con le altre forme di mobilità dolce, la stazione di Tricase, che oggi sembra e non è l'anno migliore, il periodo migliore per parlare di quel luogo come un luogo strategico, ma basta vedere la strategia nazionale interna e tante altre forme di pianificazione e di visione individuano all'hub della stazione di Tricase come un elemento cardine da potenziare, il cui potenziare anche i servizi, le infrastrutture, i servizi ai cittadini, tipo la via allo stazione, tipo un sistema di accessibilità, e potenziare l'interscambio tra chi raggiunge Tricase con, non adesso, fra dieci anni, siamo in un'ottica di transizione, le ferrovie, le ex ferrovie sud-est, e vuole poi muoversi dentro Tricase in una maniera alternativa e lì deve trovare i servizi ad hoc fatti per il ciclista, ciclista urbano, non solo il ciclista turistico, per riuscire a fruire l'importante ventaglio di servizi, commercio, microcommercio, attività direzionali e quant'altro che hanno sede a Tricase per metà della provincia, almeno se non oltre. Oltre al nodo della stazione, ci sono altri nodi di mobilità dolce importanti, come tutte le fermate sovralocali delle autolinee e come anche il porto nel suo piccolo. Quindi un asse cruciale di collegamento è l'asse trasversale ciclabile tra la stazione hub del Capodileuca, fondamentalmente, di metà della provincia salentina, la stazione di Tricase e il porto di Tricase. Asse ciclabile prioritario importantissimo perché collegando con il porto di Tricase va anche a collegarsi con la ciclovia adriatica. E quindi questo è il secondo elemento di schema prioritario. In questo viene previsto, non mi dilungo, chiaramente l'attuazione di questa ciclovia prioritaria in sede propria dentro le periferie urbane a Tricase, in maniera condivisa nel centro storico di Tricase, lì c'è da fare tutto, un gran discorso anche, è utilizzando delle strade di campagna reimmaginate come Greenway per il collegamento tra Tricase e il porto di Tricase. Su questo abbiamo un problema rilevante di quote, chi conosce il territorio lo sa benissimo e quindi bisogna studiare in un livello di dettaglio successivo dei percorsi alternativi affinché le quote siano superabili perché la strada più indicata è quella, per chi conosce Tricase, della Madonna di Loreto, per intenderci, che in parte è anche una provinciale e che passa e va a intercettare veramente un ventaglio di cose di interesse incredibili dalla Chiesa dei Diavoli al Bosco del Biotopo, sino ad arrivare al Parco Trantoleuca e scendere. Quindi veramente lì capisci come spesso la mobilità sistemica, unisco un porto e una stazione, una stazione più importante dei tessuti, Salento, dopo domani, sempre stiamo pensando, va a intercettare un patrimonio paesaggistico che a fini turistici è veramente rilevante. Questo è il secondo schema direttore. Ma abbiamo studiato un'altra cosa, abbiamo studiato i flussi interni a Tricase e quindi anche sulla costa. Andando a vedere cose macroscopiche, quali sono i servizi alle persone? L'ospedale, prima di tutti, che è il più grande polo attrattore anche di mobilità sistemica, non solo per chi sta male, chiaramente che ci lavorano, per chi va a fare ambulatorio, per chi va a fare altro, e il sistema delle scuole, scuole superiori, quindi d'inverno e altro. Puntando a dire qualsiasi ciclovia di carattere superiore, deve andare a intercettare quantomeno questi attrattori di flusso, perché lì io vinco la partita. Se faccio una pista ciclabile funzionale, efficace, efficiente, che mi collega la stazione, il centro di Tricase, l'ospedale, già ho fatto metà dei problemi, perché molte persone hanno facilità di convertire le proprie abitudini. Se questo ci aggancio, lì il gioco è facile, un'altra visione importante del Biciplan, la connessione tra l'ospedale e il cimitero, che oltre alla circonvallazione della Cosimina e riutilizzo lo spazio attivo al cimitero, il grande parcheggione al cimitero, come parcheggione di interscambio per chi vuole arrivare da nord a Tricase, ho ottenuto un'altra soluzione, quindi quella è un'altra direttrice principale che individuiamo. Dall'altra parte, e ne siamo consapevoli, c'è un altro elemento di connessione, soprattutto con le due frazioni distaccate, diciamo, Depressa e Lucugnano, attraverso delle strade secondarie, e sulle strade secondarie, sia come sulla via Madonna di Loreto, sia come via Vecchia, Marina Serra, dove invece le quote sono buone, sono a favore, è già una cosa fattibile, e verso Lucugnano e verso Depressa, ora non vi sto a dire quale, ma gli elaborate si possono scaricare, si individuano delle strade dove non dobbiamo fare grandi interventi infrastrutturali anche lì, ma dobbiamo cambiare regole d'uso, anche qui dobbiamo immaginarle come dei Greenway, in cui c'è la possibilità di convivere tra mobilità dolce e mobilità un po' più pesante, in alcuni casi importante anche il tema agricolo chiaramente, dove però bisogna prendere avvantaggio dell'utente più debole, quindi della bici e del pedone, in che modo? Mettendo delle regole d'uso, di nuovo lavorando con le regole si può ottenere tanto, comunicandole bene, magari zona 30 e non si possono sorpassare i ciclisti. Piccole cose che già funzionano, se vogliamo andare anche oltre questi elementi di dettaglio possiamo definire insieme la seconda fase di relazione del biciplan, si può pensare che in alcune strade che davvero diventano delle Greenway, ci vanno solo i frontisti, una scelta un po' più forte, però se io concedo che possono andare i frontisti, non tolgo niente a nessuno, in auto sto dicendo chiaramente, e aggiungo tanto, quindi ci possiamo andare tutti, sì, ma siamo invitati ad andarci in bici e a piedi. Allora ci possono andare solo i frontisti oppure organizzo il compleanno, io abito lì e mia nonna in bici non può venire, però mio cugino può venire in bici. Questo sistema è... Quelle infrastrutturali, dico anche che è importante l'asse verso l'Ucugnano, che come sapete c'è dentro degli attrattori di flusso importanti anche loro, tra cui lo stadio, palazzetto dello sport, giusto? Mi sono da quella parte. E poi chiaramente l'asse sud dove c'è una importante serie diciamo di quartieri tricasini, tra cui Caprarica e tra cui la 167, anche lì viene prevista una sezione protetta importante che quindi fa una specie di anello all'interno di Tricasa. Tutte questioni che per adesso sono strategiche, quindi vanno poi calate nel dettaglio delle scelte, però per farvi capire il senso che voglio trasferire, che questo strumento vuole trasferire, che bisogna fare poche cose bene. Cioè dobbiamo fare l'asse longitudinale verso il mare, con due strade che portano a mare, dobbiamo collegare l'ospedale, la stazione, le scuole superiori, fare un semianello e collegare il centro. Altra partita è il centro storico. Chiaramente non è una partita che si gioca solo nel biciplan, l'idea del biciplan è questa, è inserire una a guardare verso una ZTL fondamentalmente allargata, flessibile, stagionale, sperimentabile insieme ai cittadini, in cui però è una grande pista cicrabile fondamentalmente tutto il tessuto storico di Tricase. Noi abbiamo introdotto questo termine di passo dolce, che non significa togliere qualcosa a qualcuno, ma fare in modo sempre con le regole di lavorare sulla fruizione di quello spazio. Innanzitutto iniziando magari a togliere la sosta, i parcheggi un po' selvaggi, un po' eccessivi, anche quelli blu, in modo tale che migliora la fruizione in bici. È più sicuro se ci sono meno parcheggi, a parte che è una questione di fruibilità dello spazio pubblico. Tolgo parcheggio e è più fruibile, però in questo modo è più sicura la bicicletta. Anche se le auto possono transitare ancora, magari in un periodo temporale di cinque anni, io inizio togliendo il parcheggio. Poi faccio delle piccole sperimentazioni estive e questo è tutto un progetto sperimentale che si chiama Passo Dolce, di fruizione del tessuto storico, che è scritto. Il Biciplan invito sempre gli amministratori a guardarlo con attenzione perché è una cosa molto dialogata con i cittadini, una partecipazione vera, diciamo, fatta sui contenuti, però evade il Biciplan, dice qualcosa in più. È un tema del Pug, è un tema del Pums, è un tema della normale amministrazione, sappiamo già che stanno andando in questa direzione, poi volendo lo spieghiamo meglio. Ci tengo a dire però che questo è tutto il fronte delle azioni infrastrutturali. Non dobbiamo permetterci di pensare che è esaurito il Biciplan, dobbiamo fare delle altre cose contemporaneamente a quello, che sono delle innovazioni dal punto di vista concreto, per lavorare anche sul tema culturale. Ogni forma di trasformazione urbana ha una componente infrastrutturale, una componente culturale, quella sulla mobilità soprattutto, se no perdiamo la partita prima ancora di giocarlo. Quindi le idee sono quelle di realizzare, di lavorare molto sul bike hub della stazione di Tricase, anche in sinergia con la strategia nazionale dell'aria interna e lavorare lì inserendo dei servizi ad hoc pensati per la popolazione tricasina, che siano di servizi di utenti alla persona, che non sia un bike sharing di come quelli che hanno visti tanti, che magari non riesce a essere accattivante per cambiare questa operazione, ma che sia invece un servizio proprio di supporto ai cittadini. Prima azione. La seconda è quella invece di lavorare molto con i cittadini di domani, quindi con le scuole, attraverso ad esempio tutte quelle azioni già sperimentate diverse volte, niente di nuovo, dei piedibus o dei bici bus, non soltanto per le scuole elementari e medie, ma anche per le superiori, che abbiamo in maniera copiosa e che sono dislocate in tutto il territorio. In ultimo, anche per i lavoratori, nei luoghi in cui sono molto concentrati, penso sempre all'ospedale, si possono fare delle azioni immateriali in cui prendi delle persone che già sono abituate ad andare in bici, fondamentalmente, si chiama bike coaching, cioè il coach della bici, prendi MTB Tricase per dire, o altri che sono abituati ad andare in bici, lo fanno per passione, non è quello di cui sto parlando io, loro vanno a mille, vanno sui percorsi, però sanno andare in bici benissimo, li metti accanto a dei cittadini per una settimana sola, che vogliono cambiare le loro abitudini, vorrebbero prendere la bici, però si spaventano. Io conosco tanti, io vorrei andare in bici, però mi spavento ad andare in bici lì perché non funziona. Aspettando una visione e delle azioni strategiche, infrastrutturali che pure vanno fatte, io pian piano invece costruisco dal basso un cambio di abitudine. Quindi una settimana all'anno, settembre, cioè la settimana del bike coaching, cinque bike coacher, cioè cinque persone esperte di bici si mettono accanto a cinque altre e vanno con loro a fare la dinamica quotidiana. Questi imparano che andare in bici è semplicissimo, piccole cose di ciclomeccanica, piccole cose di codice della strada, piccole cose di strategie urbane per come muoversi meglio in bici, perché adesso la città non è ciclabile, quindi devi saper andare magari a volte anche sul marciapiede senza infrangere il codice della strada, sto dicendo una cosa un po' estrema, però è quello che serve in questo momento, sempre per guidare la transizione. E allora le azioni immateriali servono soprattutto per guidare questa transizione, in modo tale da creare una coscienza reale, ecco perché partiamo più dai più giovani, che poi sia essa stessa il presidio alle azioni infrastrutturali che invece hanno bisogno di elementi pesanti, di risorse più importanti, ma che vanno guidate fondamentalmente nella direzione giusta, quindi è un po' un piano ma un po' un programma, un programma di azioni. Ecco perché sinceramente anche il procedimento è stato un po' rallentato negli ultimi mesi per permettere che questo programma sia patrimonio comune con l'amministrazione e io sono felice di aver trovato l'ascolto attivo, attento da questo punto di vista e speriamo di ripartire proprio dai punti immateriali diciamo da fare questo tipo di cose. Volevo dire soltanto sulla ciclomeccanica, anche lì una ciclofficina sociale popolare gestita presso il bike hub della stazione può essere un elemento di grande, che è anche uno spazio di aggregazione, spazio sociale, quindi sfruttare lo sport, sfruttare il turismo per trasferirlo a tutti. Questo è in sintesi e vedevo insomma l'assessore prendeva diversi appunti, quindi dimmi tu vuoi intervenire subito adesso oppure facciamo il PEBA e poi chiudi, ok? Io potrei intervenire diciamo su alcuni punti. dai come preferisci, tanto siamo online. Sì, intervengo velocemente perché i punti di riflessione sono tanti, si potrebbero appunto riportare tutti a questa integrazione tra infrastruttura e cultura di fruizione degli spazi. Ed è un ragionamento che è vero comporta impegno non solo dal punto di vista meramente economico o in termini di lavoro per infrastrutturare, ma c'è anche un lavoro da fare nel tempo dal punto di vista sociale e culturale, perché chiaramente è vero Tricase sconta il fatto di non essere ancora adeguata alla voglia dei cittadini che si sta dimostrando diciamo ormai insistente di fruire degli spazi anche in termini di mobilità lenta, sostenibile e di mobilità dolce. Tanto è vero che sin dai primi giorni di amministrazione, anche nella trasposizione poi di quelle che naturalmente sono le linee programmatiche di governo di un'amministrazione comunale noi abbiamo inserito questo tema come uno dei temi principali su cui si deve muovere l'azione amministrativa del comune di Tricase. Perché è vero, sono campi intersettoriali che si legano perfettamente a questa vocazione turistica della nostra città. Abbiamo una vocazione che è prettamente turistica, prettamente culturale, ma non siamo ancora riusciti nel tempo a far sì che questa vocazione poi vada ad esplicarsi in servizi, in infrastrutturazione turistica e culturale, in fruizione condivisa con la città e con la comunità dei vari voli. Hai toccato, Rino, giustamente il tema del centro storico. Avere lì la sede degli uffici amministrativi e quindi della vita quotidiana dei cittadini chiaramente comporta un aggravio in termini di fruizione degli spazi, di intasamento, usiamo questo termine un po' pesante, dello spazio del centro storico che diviene non più appunto uno spazio da fruire da parte della comunità, ma uno spazio di servizio quotidiano che non è nemmeno pronto ad ospitare quel tipo. E allora immaginare lo spostamento degli uffici amministrativi da Palazzo Galloni in altra sede, con naturalmente degli strumenti che lo Stato ci consegna, anche data la pandemia che speriamo sia solamente un ricordo ormai nei prossimi mesi, fa sì che il centro storico inizi a liberarsi da un lato dalla vita quotidiana intesa come fruizione dei servizi al cittadino, ma acquisti dignità allo stesso tempo come spazio che può essere fruito. E allora lì i vari progetti, quello di infrastrutturazione turistica che è previsto nel centro storico, questo che naturalmente accompagna la trasformazione dei luoghi, fa sì che questa interconnessione tra il centro, il borgo e il porto diventi poi un concetto su cui lavorare a livello culturale, a livello di socialità, a livello di quotidianità del cittadino. Altro elemento interessante è naturalmente la predisposizione delle strade secondarie delle greenways di cui parlavi e che sono metodi alternativi di raggiungimento delle nostre marine. Naturalmente sappiamo benissimo che abbiamo un problema serio di accessibilità dei luoghi delle marine, abbiamo un tema serio di predisposizione di aree di interscambio, quindi parcheggio e interscambio e raggiungimento poi conseguente delle nostre marine ed è un ragionamento che non può non partire dal coinvolgimento della popolazione per individuare soluzioni. Un tema su cui naturalmente l'amministrazione ha dovuto necessariamente far fronte quasi come se fosse un'urgenza. è chiaro che gli strumenti anche qui dal punto di vista di legge sono veramente anche di difficile applicazione purtroppo data la conformazione e la complessità della conformazione del territorio della città di Tricase, ma naturalmente lavorando appunto poche regole fatte bene, applicate e la conseguente possibilità anche di un'interlocuzione fra pubblico e privato inteso come cittadini, come aziende, come associazioni, fa sì che si possa individuare la strada giusta da seguire. È chiaro che è una trasformazione che richiede tempo sia dal punto di vista culturale sia dal punto di vista infrastrutturale, ma è una sfida che dobbiamo cogliere oggi perché se non la cogliamo oggi, diciamo, tutto il processo sarà naturalmente vano. Mi fermo qui e poi continuiamo con Alberto. Vai direttamente Alberto. Allora, buongiorno a tutti. È il primo incontro pubblico, se così posso dire, in cui parlo del PEBA, che è un piano attualmente in fase di redazione, un percorso che è iniziato pochi mesi fa e quindi che cosa dire? Avete già affrontato una serie di nodi strategici per la città di Tricase perché sappiamo tutti quelle che sono, diciamo, le criticità date anche dalle caratteristiche e morfotipologiche e insediative del nostro territorio. Abbiamo affrontato quindi i temi della pianificazione e quindi anche gli strumenti. Prima Rino affrontava il tema appunto del Biciplan, adesso mi accingo così ad accennare alcuni aspetti fondamentali che riguardano invece il PEBA. Quindi innanzitutto ringrazio l'amministrazione comunale per avermi dato la possibilità di lavorare su questo importante strumento settoriale e ringrazio anche, visto che il PEBA è in fase di redazione, mi ha portato in giro a visitare in qualche modo e ad analizzare gli edifici pubblici e di uso pubblico, ringrazio anche tutti gli operatori che mi hanno dato una mano in questo senso, quindi il personale delle scuole ma anche dei cimiteri, delle strutture sportive che si è messo a disposizione appunto e mi ha dato una mano in questo compito, diciamo abbastanza anche, dico complesso, ma quantomeno lungo. Ecco, che cos'è un PEBA? Il PEBA è il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, quindi partiamo subito col dire che cos'è una barriera architettonica, una prima visione un po' superficiale ci porta a pensare a una barriera architettonica come, non lo so, un ostacolo da superare e che mediante un intervento di natura materiale, una rampa, un raccordo eccetera, io riesco a superare. Non è solo questo, ma la barriera architettonica è tutto ciò che rende complicata la fruizione, l'accessibilità alla città e ciò che crea delle limitazioni a una parte della cittadinanza, ma in qualche modo come vedremo anche a tutti noi, nell'accedere ai servizi, nell'accedere per esempio anche al lavoro, ai luoghi della socialità, del tempo libero eccetera eccetera, quindi è un qualcosa che limita le capacità dell'individuo di poter accedere appunto alla vita sociale. E quindi la barriera architettonica è anche un qualcosa che non c'è, non solo qualcosa che c'è o deve essere eliminato o superato, anche una mancanza di segnaletica, anche un attraversamento pedonale particolarmente pericoloso è in qualche modo una barriera architettonica. A chi si rivolge il PEBA? Questo è un altro aspetto fondamentale. Qualcuno può pensare si rivolge alle utenze deboli. Si rivolge in realtà a tutti noi perché nessuno di noi è esente da tutte quelle che possono essere le problematiche e le criticità nel muoverci all'interno della città e nell'accedere ai servizi. Diciamo che se dovessimo andare ad analizzare questo target al quale ci rivolgiamo, forse soltanto un normo dotato di 30 anni potrebbe essere escluso da tutta una serie di problematiche che invece riguardano chi? Riguardano i bambini per esempio e i loro spostamenti, riguardano le donne incinta o anche le donne che si muovono, le famiglie che si muovono con un passeggino all'interno della città per esempio, riguardano persone che hanno problematiche legate per esempio a un problema fisico anche temporaneo e così insomma via dicendo fino a includere tutta una serie di casistiche. Quindi come può uno strumento di natura settoriale che si occupa di questi argomenti in qualche modo intervenire su un territorio come quello di Tricase e perché sì ci sono degli obiettivi generali che sono quelli del superamento per le architettoniche eccetera ma poi bisogna calarsi nel proprio territorio e cercare di capire quali sono le criticità e come cercare di superarle. Allora prima di arrivare diciamo a quelli che sono obiettivi generali che stanno emergendo nella fase di redazione del PEBA mi soffermerei un attimo anche sulla metodologia che si sta seguendo che naturalmente è coerente con le linee guida poi della regione Puglia. Dunque il PEBA si propone di analizzare tutti gli edifici pubblici ed uso pubblico e capirne e decifrarne in qualche modo il livello di accessibilità e questo è un aspetto e riguarda gli edifici poi c'è un aspetto che riguarda invece l'ambito urbano quindi riguarda i percorsi riguarda gli spazi pubblici e in questo senso anche il PEBA inizia a diventare interessante da un punto di vista anche urbanistico perché innanzitutto si inserisce in un quadro pianificatorio che è un quadro come sappiamo ancora un po' incompleto, Tricase non ha un Pug approvato in maniera definitiva e quindi questi strumenti settoriali come anche il Biciplan svolgono un ruolo ancora più importante, un ruolo di raccordo di tutte quelle progettualità che sono attualmente state messe in campo sul nostro territorio e in qualche modo hanno anche l'obiettivo, il compito di disegnare la città del domani senza muoversi all'interno di una griglia ben definita che è quella del classico piano regolatore del Pug insomma. Ecco quindi io vedo questi due piani come due tasselli fondamentali per disegnare un po' il nostro futuro. Dunque un altro aspetto fondamentale del PEBA come dicevamo riguarda in buona sostanza anche il metodo, c'è un'analisi dello stato di fatto come abbiamo detto e poi c'è l'aspetto relativo diciamo alla parte progettuale del PEBA in cui verranno fuori tutta una serie di interventi proposti per il superamento delle criticità e una fase chiaramente fondamentale di allineamento agli strumenti di pianificazione come appunto il Biciplan, i due piani devono parlarsi e devono diciamo in qualche modo aiutarsi l'un l'altro diciamo no? Detta in maniera molto semplice e poi la terza fase che è quella della programmazione degli interventi. Questo è un aspetto fondamentale perché io credo che sia uno degli elementi principali del PEBA e soprattutto gli elementi positivi in grado di portare anche un'innovazione nel modus, nel modo di intervenire diciamo per risolvere questi problemi. La programmazione che cosa significa? Significa che per superare le barriere architettoniche non occorre o non basta intervenire con degli interventi spot o degli interventi tampone che vanno a risolvere diciamo un problema del momento. C'è bisogno anche di quello chiaramente ma non è pensabile in qualche modo perseguire una trasformazione della città in questo senso in maniera netta, in maniera chiara, decisa nel tempo senza la programmazione. Quindi il PEBA nella terza fase e nella terza fase del PEBA ci si occupa di in qualche modo quantificare i costi dei vari interventi e attraverso anche l'ausilio dei sistemi informativi territoriali quindi di un sit appositamente realizzato del quale si sta occupando Treppi Lab, in genere Marco Palazzo di Lecce appunto un sit che è consultabile e nel corso degli anni è monitorabile, è aggiornabile e quindi visto che il PEBA poi ha una durata decennale questo assume ancora più importanza perché poi si possono avvicendare le amministrazioni, si possono avvicendare magari assessori ma si può proseguire in questo percorso che è appunto di medio e lungo termine. Poi è chiaro che, un po' come diceva Rino anche prima, ci sono degli interventi che sono subito cantierizzabili, che possono essere messi in campo subito. Poi ci sono invece, soprattutto diciamo in alcune zone della città, ci sono invece degli interventi che hanno bisogno di un processo un po' più lungo e che richiedono degli interventi di trasformazione più ampi. Abbiamo prima citato la zona dell'ospedale di Tricase a proposito di grandi attrattori di flussi. L'ospedale di Tricase ha un dialogo con il resto della città che in qualche modo è da riscrivere. Se io faccio una passeggiata anche adesso vicino all'ospedale di Tricase vedrò la maggior parte delle utenze, molti di queste delle utenze deboli che hanno bisogno dei servizi sanitari eccetera eccetera, fare difficoltà, avere difficoltà nel movimento. Non abbiamo marciapiede sufficientemente ampio, non abbiamo delle strisce pedonali, degli attraversamenti ben segnalati, non abbiamo a ridosso delle aree a parcheggio i raccordi con i percorsi pedonali, cioè non abbiamo tutto ciò che invece dovrebbe essere essenziale soprattutto in una zona come quella dell'ospedale. Quindi la zona dell'ospedale è già un focus, un tema, un nodo strategico anche per il PEBA. Come lo è ad esempio la costa, la costa Tricasina, una costa molto particolare per la sua conformazione orografica e una costa che rende, è reso sempre difficoltosi diciamo i collegamenti tra l'entroterra e i luoghi della balneazione ma anche i servizi presenti sulla costa ma può essere allo stesso tempo e in questo c'è già una progettualità in corso, può essere allo stesso tempo invece un punto di riferimento per un certo tipo di anche fruitori e può collocarsi tra quelle località che danno anche quel servizio in più per gli anziani, per le utenze deboli in generale, sia come accesso ai servizi che come accesso alla balneazione che come appunto sistema di mobilità, perché un altro tema è anche l'accessibilità per le utenze deboli al patrimonio storico-culturale, ambientale e paesaggistico della città. Ecco quindi come potete vedere poi alla fine sono tante le tematiche che entrano in gioco, io adesso ne ho citate alcune, un'altra che mi piacerebbe citare riguarda la mobilità interna al territorio costruito, noi a volte dimentichiamo di avere la ferrovia che in pratica divide in due l'abitato di Tricase ed è attraversabile se ci pensiamo bene in maniera molto debole e attraverso appunto i sottopassi che sono molto stretti, sono pochi e poi attraverso l'incrocio del passaggio a livello. Quindi ecco pensate come questa sia già una frattura diciamo all'interno del territorio urbanizzato. Quindi il PEBA che cosa deve contribuire a fare? Il PEBA deve in una realtà policentrica come quella di Tricase deve cercare di tenere assieme che poi è un po' anche da questo punto di vista l'obiettivo del Pug e anche l'obiettivo del PEBA tenere assieme le centralità perché Tricase è fatta di centralità e di nodi che hanno una loro valenza anche di carattere culturale e bisogna appunto cercare di favorire il più possibile nuove connessioni creare nuove relazioni urbane e in questo modo cercare anche di incrementare quelle modalità di spostamento che poi sono meno inquinanti, che sono più sicure e sono anche poi più gradevoli perché pensare di raggiungere i servizi pedonalmente soprattutto in determinati periodi dell'anno è anche qualcosa di bello da fare. Prima Rino parlava ad esempio di quell'importante asse che è il collegamento tra la zona 167, il parco che è ad esempio via l'Aldomoro e ci sono appunto situazioni come quelle di via l'Aldomoro in cui possiamo intervenire ridisegnando in qualche modo la strada e ridefinendo gli spazi per le varie modalità di spostamento e ci sono invece delle situazioni nel quale come si diceva prima bisogna intervenire anche e soprattutto con delle regole e qui mi ricollego al tema del centro storico il centro storico come diciamo ulteriore ambito in questo caso una forte valenza storico-culturale importante come un ulteriore ambito che deve garantire accessibilità appunto a tutti gli utenti e quindi il centro storico che deve ridefinire in qualche modo il suo sistema di percorribilità interno e quindi per fare questo chiaramente c'è bisogno anche come sappiamo di interventi da un punto di vista infrastrutturale, noi abbiamo un centro storico che è attraversato fortemente e attraversato in maniera importante da alcuni percorsi fondamentalmente destinati alla mobilità veicolare e quindi ad oggi questo e non solo nel centro storico crea un grosso problema diciamo di interferenza tra diverse modalità di spostamento e quindi ecco su quelle bisogna anche intervenire e come possiamo vedere gli obiettivi spesso sono in qualche modo comuni si parte da obiettivi che sono generali per poi arrivare a definire ognuno nell'ambito del proprio piano delle azioni specifiche appunto. Un'ultima cosa, come abbiamo detto il percorso del PEBA è iniziato solo pochi mesi fa adesso lo stato dell'arte è questo, noi stiamo terminando la fase di indagine ed è arrivato il momento di partire anche con quella che è la partecipazione legata al PEBA e contiamo di farlo in accordo con l'amministrazione comunale magari alla fine di questa estate e si stanno preparando ad esempio uno degli strumenti che stiamo utilizzando per la partecipazione e il questionario, uno strumento molto semplice, in qualche modo un evergreen però che in questo caso può essere veramente uno strumento concreto di partecipazione perché chiede al cittadino di indicare dal suo punto di vista per esempio le strade che ritiene più pericolose gli incroci più difficili da attraversare, chiede di descrivere delle esperienze diciamo di vita quotidiana e quindi questo può sicuramente contribuire ad aiutare la sfera tecnica a decifrare meglio le criticità e leggere meglio lo stato di fatto e un altro aspetto è relativo ai loghi quindi faremo scegliere anche il logo del PEBA mettendo a disposizione magari due o tre scelte è anche un modo simpatico di coinvolgere la popolazione e poi se ce la facciamo la terza modalità diciamo che sarebbe molto interessante mettere in pratica è quella delle passeggiate, delle piccole passeggiate di comunità attraversando alcune delle strade principali di Tricase per toccare con mano tutte quelle che sono e che possiamo definire appunto delle barriere architettoniche facendolo direttamente con cittadini che magari vivono anche delle condizioni di disabilità importanti e che ci possono aiutare tantissimo tantissimo in questo se non c'è altro io forse posso ripassare la parola ad Andrea grazie molto velocemente diciamo per non tediare chi ci sta ascoltando giustamente dall'intervento di Alberto così come è successo già per l'intervento di Rino si comprende come questi strumenti siano di una intersettorialità oserei dire disarmante perché ci fanno comprendere come quando si parla di questa tipologia di strumenti non ci si riferisca unicamente al percorso appunto di che nell'immaginario collettivo viene collegato al lavoro pubblico all'infrastrutturazione quindi al lavoro fisico ma anche a un ragionamento che abbraccia tutte le tematiche che diciamo la vita amministrativa in questo caso ma anche la vita della comunità locale va ad esprimersi quotidianamente abbiamo parlato appunto di attrattori non solo diciamo culturali o turistici ma anche sociali, economici che devono essere raggiunti e che devono essere nelle condizioni di poter essere fruiti appunto c'è questa interconnessione che poi si esplica anche negli strumenti di partecipazione alle scelte e negli strumenti naturalmente di adeguamento di quella che deve essere l'azione amministrativa che non può non partire se non appunto dalla partecipazione della comunità locale perché diciamo in questo caso la Giunta e il Consiglio Comunale e tutto non possono far altro che recepire quelle che sono le istanze dei cittadini che vivono quotidianamente la città capiscono quelle che sono le criticità esistenti perché naturalmente siamo tutti cittadini di Tricase e viviamo Tricase quello che può sembrare naturalmente quotidiano normale per me può non essere così per un cittadino che vive diciamo la socialità vive la comunità in una maniera diversa dalla mia e di conseguenza appunto la democrazia degli strumenti diciamo di pianificazione che stiamo andando a immaginare ed è stato toccato anche un altro tema da Alberto come da Rino che è il tema della continuità parliamo di progetti e parliamo di un percorso di transizione che non solo abbraccia gli spazi ma abbraccia anche il tempo non è naturalmente un percorso esclusivo di questa amministrazione non lo sarà e non l'è stato in passato è un percorso che deve accompagnare la comunità la città di Tricase diciamo in una infrastrutturazione sociale culturale ripeto e ribadisco turistica e via dicendo per una visione a lungo periodo che proietti Tricase diciamo in uno sviluppo che parta è vero dall'autenticità delle criticità presenti ma diciamo che si possa immaginare in una nuova veste appunto se vogliamo che Tricase sia quel lab sociale di trasporto economico diciamo per il capo di Leuca e non solo diciamo come già lo siamo per l'offerta di servizi che la nostra cittadina diciamo da sempre porta ma naturalmente dobbiamo adeguare quelli che sono naturalmente gli spazi e non solo diciamo anche la nostra mentalità a questo tipo di mission che ci dovremmo dare tutti appunto non solo come amministrazione diciamo che dovremmo poi passare all'atto concreto dell'attuazione degli strumenti di pianificazione ma anche dal punto di vista proprio di comunità e quindi a lasciare diciamo da un certo punto di vista la dimensione locale per abbracciare un po' la dimensione a più lungo respiro che è quella dell'unione dei comuni prima poi delle aree interne poi in termini provinciali regionali e chissà diciamo no quando saremo pronti anche ad abbracciare dimensioni diciamo ed essere attrattori anche di tipo nazionale mi fermo qui diciamo perché è stato detto eh tanto e vi ringrazio eh per questa opportunità da assessore al turismo e alla programmazione strategica eh e polizia locale naturalmente mi sono ritrovato in una discussione che può sembrare diciamo parta da altri elementi diciamo no che non appartengono prettamente abbiamo toccato il patrimonio abbiamo attaccato diciamo eh toccato il eh il welfare e quindi eh la socialità abbiamo toccato l'ambiente il paesaggio abbiamo toccato tutte le tematiche e appunto diciamo non è tanto quindi la persona l'assessorato di riferimento o ma è importante il lavoro di squadra il lavoro di squadra che coinvolge non solo l'amministrazione ma che diciamo abbraccia i tecnici l'amministrazione e soprattutto i cittadini di Terricase che poi diciamo sono gli elementi finali di questo percorso che si è avviato tempo fa e che continuerà anche dopo diciamo la conclusione della nostra amministrazione quando diciamo terminerà la vita amministrativa va bene grazie a tutti grazie grazie a voi io vi saluto vi ringrazio veramente tanto a nome del gruppo di lavoro tutti gli intervenuti in questa tre giorni di talk online rinnovo veramente l'invito a passare questa sera diciamo quello che è il pomeriggio finale in cui ci sarà l'ultimo planning for real un laboratorio in cui fondamentalmente verrà illustrato dettaglio per dettaglio lo stato dell'arte della progettazione di questo progetto di rinaturalizzazione dei passaggi costieri qui sempre sulla banchina del porto e oggi sarà arricchito da due performance artistiche che sono due che sono gli esiti di due laboratori di comunità fatti con i cittadini della costa di tre case porto una con diciamo aspetto teatrale che ha un racconto di di storie qui raccolte lungo lungo la costa che attraverseremo una villa storica un pezzo della banchina per un pezzo anche in barca e dalle 17 in poi ogni 30 minuti ci si può prenotare c'è il numero di telefono nella nostra comunicazione e l'altra invece più di danza di coreografia in cui il coreografo sarà sicuro ha coordinato un gruppo di lavoro di pescatori e di cittadini del porto vedremo cosa è emerso proprio agganciandoci al tema della rinaturalizzazione dell'utilizzo dello spazio dei luoghi pubblici estate inverno è davvero stato un piacere pensiamo di essere e aver dato un contributo per stimolare nuove discussioni non è nell'inizio o nella fine sicuramente e cogliamo davvero con interesse le parole dell'assessore Ciardo che ha saputo come dire interpretare bene quello che poi noi infine vogliamo fare spostare l'asse da un discorso solo di opera pubblica diciamola così per intenderci a un discorso molto più complesso che ha a che fare con la vita di tutti i giorni con le nostre quotidianità questa in fin dei conti è la partecipazione capire che un progetto di trasformazione non finisce dove finiscono gli euro da spendere non finisce dove finisce il perimetro della perimetrazione che è stata fatta la cosa ma deve essere socialmente accettato deve camminare insieme alla comunità deve stimolare percorsi nuovi è quello che proviamo a fare grazie mille buona giornata a tutti ciao Andrea ciao Alberto grazie grazie a tutti